Regole più severe per celebrare messa in latino ad iniziare dall'autorizzazione che spetta solo al vescovo dare. Le ha scritte il Papa, ma sono stato costretto per difendere l'unità del corpo di Cristo, spiega con la lettera legata al motu proprio Tradizioni Scustodes, pubblicato oggi. Norme e istruzioni vecchie sono tutte abrogate e dove già si celebravano messe in latino, ora il vescovo stabilisca giorni e luoghi, non chiese parrocchiali. Nomini e un incaricato di celebrarle, verifichi l'effettiva utilità di parrocchie personali per chi frequenta queste celebrazioni e non autorizzi il costituirsi di nuovi gruppi. Sono addolorato e preoccupato, confida poi Bergoglio, che la facoltà concessa da Wojtyla e Ratzinger di celebrare in latino col vecchio messale sia usata per aumentare distanze e costruire contrapposizioni, rifiutando non solo la riforma liturgica post-conciliare, ma il concilio stesso e per le messe in lingue moderne, cioè la larghissima maggioranza, vale ancora invece il monito di Benedetto XVI. Il nuovo messale non autorizza né tanto meno obbliga alla creatività, cioè eccentricità e abusi liturgici. Purtroppo la non completa preparazione dei presbiteri talvolta porta a constatare delle cose non conformi, ma guardi che già i padri del concilio di Trento si sono trovati davanti ad una serie di situazioni difficili per cui hanno cercato di porre rimedio e oggi ci auguriamo che anche il rimedio venuto fuori con questo documento possa risistemare e riportare un po' di tranquillità nel tessuto ecclesiale.